Il mio obiettivo è quello di arrivare davanti in salita, ora non ti dico vincere perché vincere non è facile, l'obiettivo è quello di vincere, però essere competitivi in salita è quello il mio obiettivo. Ringrazio tutta la EOLO, Luca Spada che è qua con me perché grazie a loro non sarei mai riuscito a raccogliere questo super risultato, sono venuto qui pensando di andare in fuga ma mai mi sarei immaginato di vincere sullo Zoncolano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.